benvenuti nel canale sono frank mazzoni siamo qui oggi per portarvi nell'ennesima competizione sui rigori faremo oggi i rigori di luglio abbiamo i ragazzi qui con noi abbiamo già le squadre siamo già pronti con il calendario allora abbiamo qui con noi abbiamo l'italia abbiamo piccolo sascia il papà oriano abbiamo oriano cazzino si fa correggio poi abbiamo il piccolo edo coste pano nazione cuba abbiamo il portoghesi lorenzo e riccardo promessa del calcio lorenzo ricordiamo poi abbiamo elia insieme a peppozzo costa d'avorio piccolo andreas con chris gap germania germania poi a continuare abbiamo martino e andrea con la squadra belgio e gabriele ruben afghanistan fatemi vedere venite più qua e gli ultimi due anche voi venite qua afghanistan e poi voi brasilio ok cominciamo con la prima partita costa d'avorio afghanistan cominciamo per ragazzi ci siamo partiamo con costa d'avorio sono la corsa d'avorio quindi avv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv... a tiro primo tiro per me serve un festezza che gol che gol 5 euro ombrello tutto quello che vuoi anche i palloni non male il primo tiro ora abbiamo il secondo non so se fare i tagli ma chi se ne frega Gabriele Gabriele a tiro lì 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 fischio arbitro giovane fischio un giro così e il pepposo signor signor facciamo noi il fischio finto 1 a 1 momentaneamente ancora Silas si vede no? la porta la devo controllare se si vede tutto si si vede tutto perfetto tu sai quello che diceva come fa andate ricordate se vi mettete a parlare qui venite registrati potete stare però c'è la registrazione dai forza che apri i tiroi l'ho fatto con il primo raso e terra 3,2,1 al tiro dai pepi vai attenzione 1 a 0 giusto? 1 a 0 1 a 0 per l'afghanistan no 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 costa lavoro a voi siete la costa lavoro? si dai Eli niente guarda troppo centrali devo tirare l'acolino non si è il bravo faccio guardare 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 o il tiro di colino prendi uno atti oppure senti piatto nell'alto lì ancora fermi allora fuori 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 Leonardo si chiama? Sotto il sguardo della viola ha fatto una bella parata passaggio a viola non so perché quel bacio? è così si ti dà assoluto così sbaglio Elias dai ok quarto tiro dai Elias se la para se la para se la para se te pare no 1 a 0 se la pari te se la pari hai il quarto tiro per loro vai quarto tiro giusto per loro vabbè se segni si mi pare no no se la pari ma hanno cambiato tiratori il solito deve essere capi con la solita squadra il solito poi potete cambiare tutti allora se pari questo non ha vinto non ha ancora vinto non ha ancora vinto vai guarda questa guarda ok sei lì a segni avete vinto se pari dopo avete vinto o segni o pari vuoi chiudere te o la chiude lui hai tirato la telecamera che la ciu la bubba però vorrei chiuderla io ma non ne sono sicuro e ti da forza non ti prendo ci sono ci pensa lui Stando sì. Gabi al tiro. Astiani al tiro. Sì, ma l'ha detto io. Devi far gol per andare a superiore in Italia. Al tiro. E la para, signori e signori. Passa la costa da Vori. A tra poco. Signori, ci siamo nella seconda partita. Abbiamo Brasile contro la Germania. Al tiro, Brasile. Germania in porta. E si ritornarete, signori. Una a zero. Ricordiamoci il punteggio. Stiamo registrando. Tiro della Germania. Ecco il tiro. Adesso una a zero Brasile. Scusate, ma devo controllare sempre se registra. Allora sì, tutto ok. Tanto, vieni qui. Facciamo quella scenetta. Oh, cos'è? Com'è? Vighez dia. Vighez dia. Come si dice? Vighez dia. Good. E lì. Anche. Andi, lì. Vai Andre. Attenzione Andre. Forza Andre. Sarebbe un gol, eh? Vai Andre. 2 a 0 Brasile. A tiro. Tiro! Oh! Vighezio! Vai se questo! Ora è il terzo tiro. Terzo tiro, giusto? Adesso segniamo prima. 3 a 0. Se fate questo gol, il gioco sbaglio lo avete vinto. Sì. Vai! Guarda l'opo. Prendete a lui. La pari a lui. Per riaprire la deve fare un gol. E lui dopo deve rararla. Attenzione, la Germania sta presto eliminata. Non devi sbagliare. Andreas, vieni qua. Deve impararla la prossima. Di qualcosa in telecamera prima di uscire. Vieni qua. Dagli fiducia. Dagli fiducia. Dai, Andre, dai su. Devi far questo uno. Sì, sì. Fatte tattica. A tiro. La palla se ne va. Come la Germania se ne va. Passa il Brasile. Ce l'hai te la penna? Sì. Ok. A tra poco ragazzi. Ok, ci siamo. Belgio-Italia. Batte Italia. Belgio in porto. Vai, dai. Dai, Sascha. Vai, Sascha. Sascha, vuoi dire qualcosa o ti rifiuto? Ti fa qualcosa. Che bingi. Tu riuscire. E qui, che santi si vede. Ecco ti. Qua. Salutata mamma. Ciao. Ciao mamma. 3, 2, 1. A tiro. Se teni quella giacca di darvi un sito. Sì. Ma voi si è riuscire giù. Ma vai. Tatti droghi. Allora, se vince il Belgio scrivete. Dai, Andre. Non c'è l'Italia? Sì. Dai. Chi c'è? Eccoci. Rai, rai, le ossa, Andre. Non mi fa di fuori. Eh? Ma poco, qua è stanza. Poi c'è in mezzo, c'è qui la metà. La metà è qui. Sì. 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 Vieni a centro qua, eh. Sì. 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 Che coro. È un buoncchiere. Forza. Ma è parata, ostia. 2 a 1 ragazzi. Siamo 2 a 1 per il... 2 a 0 stessa. Per l'Italia. 2 a 0 per l'Italia. 2 a 0 per l'Italia. No, niente. 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 Di famiglia. Quindi Donnarumma è lui. Forza, niente. Forza, niente. Belgio, Andreas. Ah, sì. Ti parla. Vai. Blocca. No, poi c'è il trale, porca miseria. Ma schifo. Oh, quel pallone. Altino. Terzo tiro dell'Italia. No, guarda. Guarda. Sì, sì. Gli ho detto io. Ma schifo il pallone. Altino. No, va bene. Quasi, signor e signor. Delicato, proprio. Vabbè, voglio vedere la cosa. Molto. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Prendi. Terzo tiro per il belgio. 2 a 0, dai. Per la vita. Questo è il corto, ragazzo. È il corto. Vai. Don Michele. Ma cos'è? Attenzione, Andreas. Dai, Andre. Al tiro. Piazza, ti decentrato. Ehi, Sasha. Se fanno gol, hanno vinto. Se segnano, hanno vinto. Vediamo l'Italia o Sasha. Oh, poi il tifo per Sasha. Sasha, forse, eh. Sasha. Un po' di tensione. Sasha. 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 No, no, ma tu l'abbiamo. Anna. Vi, Andrea. Che ne pari, è finito. Ok. Un tiro di Andrea. Devi segnare. Andi a quale mi chiamiamo. Se segna Andrea. Il tifo anche per lui. Andrea. 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 Andi a tutti i centrali. Mi spiace, ho eliminato il peggio. È come il baggio. Mi spiace, ragazzi, ma come è il centro. È come i baggio. A uno grande. E' come il baggio. il tabellone allora come potete vedere costalavorio contro afghanistan è passata a costalavorio poi brasile germania è passato il brasilio belgio italia è passata l'italia ora manca cuba portogallo ok cominciamo cuba cuba dov'è il portogallo lui è brava anche ed è un pochino ed è un tiro per il cuba 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 il tiro la destra è attiva vedi uno a zero uno a zero io hai togliato è battuto una volta con la seconda stefano al tiro portogallo guarda il ragazzo che ha vinto i palleggi vi ricordate quanti avevi fatti? 32 si è portato a casa il pallone grande l'olio al tiro bravo bravo ha cambiato il eh ha cambiato il bravo c'è perché non faccio fatica che hai avuto un pallone oh pepi quanto è passato il pallone l'uomo non c'è ehm brasilia germania 3 a 0 3 a 0 eh hanno perso no ci diamo fatti due al tiro per cuba aiuto calata Elia ma se grazie bello questo bello grazie bello questo bravo terzo tiro per il bravo si si di precisione il secco lì e Elia vuoi tirarti dopo stiamo registrando? si devono usciti il collo una bomba ragazzi Elia vuoi tirarti dopo paro io vedi? bravo peccato attenzione quando ero qui ho metto il sorpasso per il cubo vediamo se c'è una bomba dai è sole buttati porto in alto stenditi dai stenditi stendere vedo dai devi pagare qui il mio terzo tiro passo terzo tiro passo quarto quattro 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 ci sta vincendo è il tuo terzo è il tuo quarto concentrato sul pallone guarda la palla siamo 1 2 a 1 e stai fermo non ti muovere rimani oh portogallo parata parata è l'ultimo tiro per farcela in questo momento ci vuole una parata del portiere avversario e un gol di lorenzo per andare ai superiressati cos'è frizzala vedo strizzala se fai gol l'avete vinto capito che stai vincendo? dai ricky ho capito frizzala ho detto frizzala si va al tiro se segna ha vinto riparare se non ti diamo vedo tiro con la vinta con l'emozione portavo lo sbaglio vedo pazzo dai vai aiuto ho detto l'ho detto che lo sbagliavo perché c'aveva tensione c'aveva tensione poi lui la butta sempre a sinistra più bravo sulla sinistra invece adesso ci vuole la rete eh se sbagli sono passati mi so 2 a 1 sì questo è il tuo quinto tiro Lore a caso di gol ci va un traccio ci va un tiro a te ci va un tiro a te ce la farà? ce la farà il ragazzo del portogallo? ce la farà? al tiro 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 eliminato il portogallo passa il cuba alla grana con più di interesse a trapporto 2 a 1 2 a 3 2 a 3 2 a 3 3 2 a 4 3 3 5 6 7 9 10 10 10 10